Punto F, fratellanza animica 1. Punto F, attraverso Francesca R, a cura di VB, guida. Le persone che non sono presenti, non lo sono solo con il corpo fisico, ma in realtà sono presenti. Questo perché c'è un legame molto forte tra voi, che è la fratellanza animica. Adesso introduciamo il concetto della fratellanza animica, che non è solo essere fratelli di anime. In realtà tutti gli incarnati, in un certo senso, sono fratelli. La fratellanza animica è diversa. Vi è chiaro il concetto di coscienza? La fratellanza animica è la stessa coscienza che si incarna in più corpi contemporaneamente. Cioè, nello stesso momento. Capite che l'unione che esiste a livello sottile tra voi è ben diverso rispetto al rapporto che esiste tra voi e qualunque altra entità incarnata. La consapevolezza coscienziale è diversa non perché non siate tutti esattamente la stessa cosa. La fratellanza animica serve alla coscienza per esperire più rapidamente ampi crediti karmici accumulati ed è una incolumità importante della legge evolutiva che permette un forte salto coscienziale. Si arriva ad un livello che serve per avanzare a livelli superiori e far sì che l'esperienza evolutiva e incarnativa sia più densa.